9 giugno 1934. Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney la gallinella saggia, The Wise Little Hen. È un papero bianco con il becco e le zampe arancioni. Porta una giacchetta da marinaio senza pantaloni. Più del suo aspetto colpisce il suo carattere. E' l'antieroe per eccellenza. Pasticcione, pigro, a volte astuto e in fondo di buon cuore. Paperino deve moltissimo al cartoonista Carl Barks, l'artista che maggiormente ha lavorato per definire i tratti della sua personalità. Io credo, dice il grande Carl, che Paperino e Paperone siano così attuali perché un po' pazzi e imprevedibili. Comunque, Paperino è il mio preferito. C'è una sorta di feeling tra me e lui. Paperino mi assomiglia. Quando ero bambino, ero proprio come lui. Paperino mi assomiglia.